Sono Roberto Bersani, titolare di BeBasic. BeBasic nasce come spazio dedicato all'arte e organizziamo corsi e mostre fotografiche tenute da artisti e fotografi. Dal 18 novembre ho l'onore di ospitare la mostra di Umberto Bonfini, organizzata insieme al regista Claudio Spot. Bonfini è nato il 1918, era medico a Grezzano Morandi e lì conombe Giorgio Morandi e questa frequentazione fu propedeutica alla sua vera arte, la fotografia. Bonfini amava la fotografia e ne era riamato, ed è facile capirlo dai grandissimi e numerosi premi e riconoscimenti ottenuti in tutto il mondo. Dopo un duro lavoro di ricerca del regista Claudio Spot, il 18 novembre, dopo oltre 40 anni, BeBasic ospiterà 19 grandi sue opere.